Cesaria Rinaldi è un'azienda che nasce oltre 30 anni fa specializzata in tutto quello che è il colore nell'ambito delle pietre. In questo caso abbiamo una varietà di tormaline molto rara che è la tormalina burgundy che prende quello che è il colore di un vino italiano molto amato. Per poi proseguire verso la tormalina verde e andare in tutta quella che è la gamma dei berilli da l'acquamarina azzurro intenso alla morganite, l'eliodoro e fino a quella che può essere considerata acquamarina Santa Maria. Fili di pietre a foro altamente selezionati e di colorazioni, qualità di materiali molto ricercate, molto sofisticate. In particolare abbiamo un pezzo di acquamarina molto importante, siamo sui 187 carati di pietra, è difficile da realizzare. In questo caso abbiamo una pietra che ha anche una storia molto antica, un pezzo che ha oltre 100 anni e che rappresenta un'eccellenza nell'ambito delle pietre di colore. In quest'ultima vetrina abbiamo zafferi gialli, un'alchimia cromatica che si lega molto bene con quelli che sono gocce di rubini burma, tanzaniti blu, tormaline paraiba, tormaline menta e uno splendido pezzo di rubellite. In quest'ultima vetrina è un'alchimia cromatica.